Parte da Lucca la prima giornata dedicata al rinnovo urbano e culturale delle città della Toscana. Un evento Lucca 2021 organizzato nella Chiesa di San Francesco della Regione per confrontarsi sul ruolo della riqualificazione urbana per la rinascita sociale del Paese dopo la pandemia, dove i professionisti del settore hanno illustrato come proporre i progetti da realizzare grazie alle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea nell'ambito del progetto Next Generation e dal programma nazionale Qualità dell'Abitare. Davvero credo che l'obiettivo della riqualificazione sia quello più importante tra le tante linee d'azione del progetto del Recovery Fund. Io credo che questo, si parla di governo del territorio, sia lo strumento anche per realizzare una miglior mobilità che si tratti della tramvia nell'area metropolitana fiorentina o di quanto si discuteva poco fa di sistemi ovviamente più leggeri, di mobilità però innovativi. Al centro dell'iniziativa il programma nazionale Qualità dell'Abitare, un'opportunità aperta a tutti gli enti locali per rilanciare le loro città e il loro territorio. Ci sono due categorie di progetti, quelli fino a 15 milioni di euro e quelli classificati come strategici a livello nazionale, per i quali invece sono previsti fino a 100 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti di programmi articolati in cui verranno premiate tutta una serie di caratteristiche come il consumo zero del suolo, come soluzioni ambientalmente sostenibili, soluzioni innovative legate al processo, al procedimento, alla gestione e non ultima la partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati. Per presentare i progetti c'è tempo fino al 16 marzo 2021.